Lo chiedi a Tony? A Tony? Hai capito? Hai capito? Sì, ho capito, va bene, va bene. No, andiamo a letto, va bene. Porca miseria. Hai un'occasione di carriera in or, poi tu vas la laisser passer per ne pas gâcher le voyage di ton cretino di chum. E tre volte, mangi. E quattro volte, a parte la puttana, mangi! Non. Ok, ti vien un po' da difendere bambino. Do you have two legs, two arms, a nose, a middle on your face? Fanta, mamma! Fanta! 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 Autore dei sorrisi